Sono passati 800 anni dalla svolta francescana di frate Fernando da Lisbona. 800 anni dal suo naufragio in Sicilia, 800 anni dal suo primo abbraccio con il poverello d'Assisi. Da qui cambia la sua vita e inizia quella dell'uomo che viene oggi ricordato come Sant'Antonio da Padova. Un compleanno speciale, un triplice anniversario di rilevanza mondiale che porta oggi un gruppo di pellegrini a ripercorrere attraverso 108 tappe il cammino di Antonio da Capo Milazzo fino alla sua Padova. Oltre 2.000 chilometri, 3 milioni di passi e un affetto incontenibile per un santo amato anche nel nuovo mondo. Un percorso che si concluderà domenica proprio al santo dove saremo anche noi in Rete Veneta per celebrare questo momento storico di grande importanza. Saremo in diretta dalle 14 fino al tardo pomeriggio per raccontarvi un evento epocale per farvi sentire le voci delle persone coinvolte in questo anniversario per far sentire la vostra voce e quella dei fedeli. Dopo aver accompagnato il santo in volo sull'elicottero che lo ha portato sulle terre colpite dal Covid in una diretta che ha permesso a milioni di telespettatori di essere presenti al momento più alto della lotta al male invisibile dopo averlo seguito sulle strade di Padova, sull'acqua della laguna e fra la sua gente torniamo a portare nelle vostre case il santo e la storia. Domenica sul canale 14. A partire dalle 14.